Benvenuti a Impacto Gatsfit 2! Vai, tutti i trainer Gatsfit! Tutti loro sono trainer certificati Impacto Gatsfit, io direi scadregati! Magari se voi mi aiutate, uno, due, tre, scadregati! Siamo pronti? Sì! 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 Due, uno, go! Procuni, dai con qui! Sì, su, uno, tre, due, uno, due, tre, scopo, vici, cinque, quattro! Skip rapidamente! Ora mi vai per i compiti! Skip rapidamente! Skip rapidamente! Vai, vai, vai! Cambio! 25 secondi! Sì! Cambio! Mi fai un tasco! Solo il mio via! Adesso attenzione a questo esercizio che si chiama... Un tasco! Un tasco! Un tasco! E il tasco! Un tasco! Antena con me! 2! 1! 2! Cosa stiamo lavorando quiii? Cambio! Altuno! Andre... Dai cosi! 1, cambio, fai su questi gradoni, per i controlli, sinistra, 3, 6, 7, però i glutei rimangono, bravo, giù, su, e giù, ok, mi raccomando, se me lo fai così, è una scadegata, 2, 1, go, veloci, bam bam, hai capito? Vai, 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 vai!